L'uomo della caverna è l'uomo moderno. Quando l'uomo viveva nella miseria era giusto che cercasse di evolversi, innovare, trovare soluzioni per sfamarsi, per riscaldarsi, per debellare le malattie. Ma una volta che l'uomo ha raggiunto un alto livello di evoluzione, mi chiedo fino a che punto sia corretto continuare a ricercare di migliorare quando non è più necessario, riempirci di cose inutili, andare oltre necessario. È davvero la strada giusta? Forse l'evoluzione vera, oltre un certo livello, è nello spirito. Se continuiamo a riempirci di cose per lo più inutili, non faremo altro che consumare risorse senza contropartita. Guardiamoci intorno, smettiamola con le scuse che noi lavoriamo e gli altri no, e quindi noi abbiamo diritto. Diritto a cosa? Diritto a lasciare morire di fame gli altri per difendere la nostra posizione sociale. Buona giornata, Papa Gianpietro.